Sono Pietro Natale Capitani, Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Modena e sono veramente lieto di essere qui nella seconda giornata della settimana della bioarchitettura e della domotica in quanto abbiamo collaborato per questo evento, questo seminario formativo in materia di bioenergie tra tecnica e normativa. ossia vogliamo vedere declinato dal punto di vista anche della produzione agricola l'apporto che può provenire all'energia rinnovabile dal settore primario, dall'agricoltura. Possiamo dire finalmente che oggi non siamo più a parlare di modelli teorici o di programmi futuri. Si sono già delle realizzazioni anche nella nostra provincia di impianti a biogas e di impianti per esempio per teleriscaldamento da biomasse forestali, da cippato proveniente da biomasse forestali. Un patrimonio è quello dell'agricoltura, residui degli allevamenti o anche residui di industrie collegate all'agricoltura, residui della lavorazione del legno e utilizzazione di essenze marginali provenienti dai boschi del nostro appennino per utilizzare affini energetici sia per la produzione di energia come nel caso del biogas che di calore come nel caso delle biomasse forestali. Alcune realizzazioni sono già state fatte quindi un punto non certo di arrivo ma di partenza per proseguire e consolidare l'attività. Mi preme dire che l'energia proveniente dall'agricoltura naturalmente deve essere gestita in un'ottica di territorio, di sulla guarda del territorio. Quindi a maggior ragione si inserisce anche questo seminario di formativo nell'ambito di una settimana così importante che ha dei riferimenti precisi sul ricostruire purtroppo in seguito all'evento anche ricostruire con tecniche nuove e quindi anche il discorso energetico che è molto importante per la gestione di tutte le attività del territorio va naturalmente esaminato su area vasta nell'ambito di tutte le risorse che il territorio può mettere a disposizione. Quindi sono veramente grato anche agli organizzatori di averci dato questa possibilità. Sono grato ai professori universitari che ci assistono con la loro esperienza e la loro professionalità anche in questa giornata e auspico che sia veramente un evento formativo per tutti i professionisti che operano in questo ambito.